L'elega maniera per farmi amore una lingua l'eldovrala. L'unico modo per far vivere una lingua è ad operarla, sempre. Ciao a tutti, mi parlo lombardo perché a me piace. Ciao a tutti, io parlo lombardo perché mi piace. Ciao a tutti. Mi parlo lombardo perché penso che il game detegna viva la memoria storica dei popoli del nostro paese. Moi, io parlo lombardo perché penso che l'on dobbiamo vivere la memoria storica di tutti i popoli del nostro paese. Ciao a tutti, mi chiamo Michael e mi parlo lombardo perché la mia lingua è la più importante dell'ideografico della ideologia politica. Ciao a tutti, mi chiamo Michael e io parlo lombardo perché la mia lingua è più importante che le ideologie politiche. L, M, O. Ho avuto l'occasione di studiare, di parlare, di parlare tutte le lingue, tedesco, inglese, francese, riuso, un po' di spagnolo. Spagnolo senza desmentare il latino, il greco, però la lingua che mi piace di più è la lingua della mia terra lombarda. Io, che ho già stato molto bella, ho affrontato in mio vita con molte parole. L'euro, l'angelo, l'angelo, il spagnolo un po' di spagnolo, anche anche il russo, anche il greco e il latino. Ma la lingua che mi piace, la lingua che mi piace, è la lingua dell'ombardo. e la lingua dell'ombardo. Ciao a tutti. Mi ha parlato lombardo perché è la lingua della mia terra, è la lingua del mio cuore. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.